A Fiandaca ci hai provato proprio inizio partita, ci hai provato inizio secondo tempo, il secondo tempo è andata bene. Il primo tempo secondo me è una grande parata del portiere, nel primo tempo, nel secondo tempo io in diretto ho detto mi è sembrato che ci fosse proprio una sua complicità, tu che dici? Nel secondo? Sì, nel secondo c'è stata anche una sua complicità, però alla fine è entrata, quello è importante, non mi interessa. Va bene, hai dimostrato di avere piede, calci bene da fuori, hai fatto girare bene la squadra, in effetti sei sentito protagonista oggi di quest'ischia? No, non è che mi sono sentito protagonista, diciamo che ho fatto anche molti errori, guardo più gli errori che le cose giuste, perché è da lì che si cresce. Un'ischia che secondo me oggi ha dimostrato, soprattutto nel secondo tempo, di saper stare in campo, di trovare il gol, ma di essere anche capace di impensierire spesso la squadra avversaria. Esatto, sì, oggi eravamo, a mio parere, diciamo che abbiamo giocato un po' più avanti in confronto alle altre volte, quindi di conseguenza si vede un po' più di qualità, magari perché giocare un po' di dietro è più difficile. Nel primo tempo è difficile, spesso avete cercato la palla lunga subito e loro venivano nella metà campo, poi ci sono stati due colpi, due azioni della regina, voi avete reagito bene già a fine primo tempo, poi nella ripresa avete dominato. Sì, nella ripresa abbiamo dominato, anche nel primo tempo, a mio parere, abbiamo fatto abbastanza bene all'inizio, poi siamo calati, come al nostro solito, negli ultimi minuti del primo tempo, nel secondo tempo siamo rientrati subito agguerriti e si è visto... Cosa vi ha detto il mister? Noi abbiamo visto il capannello in mezzo al campo, ma sicuramente le cose più importanti ve le siete detti nello stanzone. Sì, il mister è un tipo tosto e quindi ci ha dato molta carica di rientrare e portare a casa il risultato, perché è l'unica cosa che ci interessava. La regina dall'altra parte sembrava che avessi chissà quanta voglia ad inizio partita, poi piano piano si sono spenti. Sì, sono spenti, perché a mio parere oggi abbiamo fatto una grande partita a livello agonistico e non solo, quindi di conseguenza oggi c'eravamo pure noi in campo. C'era pure il pubblico che mi dava una mano. Sì, c'era pure il pubblico che ci dava una mano.